Ronaldo, come se volesse tirare da lì. E probabilmente tirerà. Si prova? Sì, sì, sicuramente. Ecco la posizione da Pistolero. Pistolero e Ronaldo. Travelo il tiro a giro. Incredibile! Sfiore il palo. Che numero! È uno spettacolo, un giocatore strepitoso. La condizione psicofisica perfetta. Taci con potenza, precisione. Mi sembra Ronaldo. Mi stanno a Ronaldo con la sua falcata. Pronti di raddoppio. Ronaldo cambia marcia. Vuole andare sul fondo. Gran botta! Palo incredibile! Che numero! È uno spettacolo, un giocatore strepitoso. Dani Alves. Si crea lo spazio per Dani Alves. Messi. Attenzione. Messi controllo. Fitta con dribbling. Frave sinistro! Nel palo incredibile! È uno spazio. Xavi. Il cerebro, il cervello. Xavi controllo e dribbling incorporato. È il solito fenomeno. Si crea lo spazio per Dani Alves. Parto un buon cross. Kakà. Numero! Numero di Kakà. Spazio per lui. Prova la gran botta! Spazio per la gran botta!